Io volevo dire che, tornando ad argomenti interessanti che ho sentito prima, che l'azione del Governo riguarda la salute e il portafoglio. Allora, io direi che sulla salute il Governo sta facendo quello che più o meno deve fare con tutti i problemi che sappiamo, mentre invece è evidente che il portafoglio è vuoto. E io credo che in questo momento un'attenzione particolare dovrebbe essere portata ai problemi che venivano prima sollevati sulla cassa integrazione. Questi ritardi sono inaccettabili. Come sono inaccettabili il fatto che tutte le sovvenzioni, i contributi o arrivano in ritardo o non arrivano. Questa è la vera bomba sociale che rischia di esplodere, non quella della sanità che più o meno si cercherà di aiutare e di governare.